Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Ci sono poi rallentamenti per lavori in direzione Firenze tra Santa Croce, sull'Arno e San Miniato. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Worsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!